Porter segue principi indiscutibili, prima l'amore, poi il lavoro, infine l'amicizia. Ma quando tutto sembra essere contro di lui, decide che non sarà più un bravo ragazzo. Poca gente sa quanto vale la propria vita. Sono il tuo regalo di comprare. La mia vale 70.000 dollari. Mel Gibson, per il ciclo Action. Payback, la rivincita di Porter. Giovedì alle 21, con Iris.